Salve signora conosci Geova. Signora? Ma ti pare che io sono una signorina? Ma cosa sei tu? Signorina, filippina, perché hai queste finestre sporche? Oh ma non mi faccia le foto, non mi faccia le foto. Non le sto facendo le foto. Ma la smetta di farmi queste foto, stupido essere. È qui che abita Lady Gaga. Lady Gaga è una fanatica di Geova. La devo conoscere. Ehi, quelle porte erano chiuse. È lo spirito santo che ha aperto queste porte. Ascolta, lei se ne deve dare a tre secondi per farlo. No, non è vero. Ma i secondi di Geova? Ti ho mancato. Ti ho mancato. Non dirmi che sei nella modalità in V. Non sono in modalità in V. No. Perché non posso ucciderti? Perché non muori? Oh ma guarda, ho deviato il proiettile con il solo uso delle mie rinche. Hai rotti i coglioni, voglio farla scena dove ti uccido. Santo mestiere. Santo mestiere. Santo mestiere. Santo mestiere. Santo mestiere. Santo mestiere. Nooo, perché l'ha fatto? Siamo anche penetrati un muro con la testina. Ti sei accassato come una scarpa floscica. Una scarpa floscica? Metto i tavolini. Oh, forse questo non è un tavolo. Guarda, ho detto. Aspetta, guarda, levati. Ho detto, metto un tavolino. E ho fatto questo. Oh! E' bellissimo. E' giusto, giusto. E' perfetto per noi. E' perfetto per noi. Sei Iron Man? Cosa stai nelle cascine? Chi è Iron Man? Io mi chiamo Aronno Menno. Aronno Menno. Aronno Menno. Tu chi sei? Sei un nomade. Cambi da una cascina all'altra. No, vivo sempre in questa cascina. Guarda. Perché mi picchi? Io ho un fucile e tu mi picchi. Eh, io sono nato così. Mi sento di sopravvivenza. Con questa specie di cosa rossa addosso. In teoria mi hanno detto... Non mi picchiare a Mendola che ho un fucile. Guarda cosa riesco a fare. Aspetta. Guarda che persa... Oh mio Dio! Hai visto? Ma sei proprio bravo. Fammi vedere se sei... Ma chi è che ti ha insegnato? Mi ha insegnato... Mi ha insegnato... Ah! Non ce la faccio vedere. Maronno a Mendola. Nonno a Mendola. Nonno a Mendola. Mennola. È l'annuale festa campestre del tiro a segno di... Campestre? Sì. Dove vedi... Dove vedi camp... Eh, sono all'estero, campestero. Non hai visto niente? No. Ok, perfetto. Un frigorifero. Sì. Hai rotto la mia cocomera! Non è vero! La tua cosa... Ascolta, vieni fuori. Di cosa ho rotto? Di cosa ho rotto? Di cosa ho rotto? La tua cosa? La tua cocomera. La tua cocomera. Questa. È... È un pacchetto di cioccolati... Ah! Guarda come si... Guarda che effetto ha quest'arma sulle cocomere. Guardami. Guarda. Cosa fa? Hai visto? Le... Guarda adesso, senza guardare. Senza guardare, guarda. Senza guardare. Uh! Quickscope noscope po! Ah, merda. Quickscope noscope po! Quickscope noscope po! Se è Quickscope, non è nostro! Quickscope noscope... Eeeh! Sono il campione della Fiera Campestre! Guardo tentativo SuperCore! Ecco, finita. Finita. A rivenerci o auguro il prossimo anno. No, aspetta, non è finita. Pegli maschi! Pegli maschi! I mobiletti! Non li vuoi distruggere? Iiii! Però li stai distruggendo tutti tu! Ecco, va! Eeeh! Il frigorifero è tutto! Puoi distruggere tutto! E' una macchina bellissima! E' una macchina bellissima! Oh! Scusa! Ah! Come tutti i sabati! Dovrebbe esserci la mia carissima signorina! Qui sulla... Oh mio Dio! Che cosa sei tu! Ma salve amore! Eeeh! Vuoi assaggiare il mio RPG? Eeeh! Non so se... Sei interessato a certe cose? Vuoi fare un toffetto con me in piscina? Guardi, no, io sono... Insieme ad Alessia! Sono un conservatore! Arrivederci! Oh che c'ho! Eheheheh! Arrivederci! Oh no RPG! Aiuto! Ehi! Arrivederci! Che cazzo! Oh! Oh! Yes! No, guardi! Vabbè, prego! Sono venuto a prendere la mia macchina ma non la trovo più! Gratississima questa volta! Io sono venuto a prendere la mia... Entri per la prima volta, poi parliamo della seconda! Se mette giù quel coso potremmo anche... Se vuoi prepararti c'è un bel... Vabbio! Un bel... Venga qua! Venga qua! Scusi, ma... Qual è stata l'ultima volta che ha pulito qua dentro? Non si può... Ah! Qual è stata l'ultima volta che ha pulito qua dentro? Scusa! Ok! Siano entrato! Grasso amore! Grasso amore! Grasso amore! Volevo... Volevo spaccare il vetro per farla entrare, stupido essere! Ah! Nel frattempo mi metto a guardare la televisione! Aspetta! Allora! Ah! Non c'è il telecomando! Mi tocca cambiare così! Guarda! Te l'avvicino, tu cambi! Ok! Allora, signore! Questo è il casello! Lei dove vuole andare vestito così? A... A Rio de Janeiro! Dove ci stanno? Fermi! Perché si... Fermi! Pensavo di poter passare... No, no! Devo alzare io qui la sbarra! Ah! Non sono un criceto! Ok! Oh! Anzi la sbarra, signore! Ok! Si fermi! Attenzione! Ok! Grazie! Un piedi porco! Un piedi porco! No! Perché? Guarda come cadi! Allora, signore! Ecco! Il camioncino degli schnitzel! Oh! Voglio anche gli schnitzel! Li butta fuori da questo lato! Oh! Anche la cazzacina di Heidi! Si! Ma è Heidi! Eccoli! Oh mio Dio! Oh! Un altro signore! Cinesis! Grazie! Il mio Dio! Il mio Dio! È guilty! Il mio è! Il mio vero è il mio ho bloccato! Il mio Dio è il mio Dio! Il mio Dio è il mio Dio è il mio Dio! Ma è in un testo di COTE! It's no Cloud! Oh! Well! noi non ci servono ascensore la smessa di starmi così vicino ho schiacciato il bottone a caso la 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 perché la stessa canzone delle gocciole messaggi subliminali non lo so apriamo in un posto ma sembra 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 ma poi vedrà nessuno rompa è meglio accendere la luce in questi casi e se ho le mani fuori non stanno facendo niente perché sento bb che sto morendo va arrivando la cosa cosa una cosa che l'ho tua per aria con un occhio unico ha visto anch'io distrutto allora allora dicevamo che sta schifo eeeh mi scappava la cacca venga venga oddio che cos'è qua ho sentito però con le palle è un esperto vada vada ci levi no no perchè aia mi hai ucciso oh basta basta qua sotto wow aia sbattuto contro il muro danger construction site not repassing ma vaffan frega cazze chi se ne fotte e tu hai mai visto un mattone non mi chiede la cosa è una vanga oh aia no ssh ssh sento della musica piano piano wow wow ci si Alissia Beva beva ma io sono barista a lei aveva che ha poi era buttato a terra il mio Quattacce ne pago io Beva anche lei questo colico o o mi gira la testa mi devo sedere assolutamente Guardi siamo Ma dove mi sono curato quest'alba Ho sperato caso Oddio Che cazzo sei tu? Ma perché c'è della pizza qui? Ma che pizza? Ma dov'è la pizza? Wow pizza Ma secondo me è cruda Aspetta che la L'ho buttata dentro al forno Ma è un mostro Guardi 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 Voglio provare anche io a trasportarlo Ma no Perché l'ho fatto? Perché? Ma che cazzo di posto è questo? Lo so Potremmo esplorarlo insieme Ah è la madre di tutte le pizzerie ho capito E dove fanno il pomodoro Esatto Pucci la pizza La toci Oh che fame È tutta mia Io sto volando su una pizza Oh mio dio ma è un disco Guarda Wow Sto volando sulla pizza Oh Questo pomodoro Ha perso pure la pizza Ma è un genio Ah dobbiamo ritrovare la pizza ora dentro Ecco Trovata No Cosa cazzo è questo? Oh mio dio Non credo sia una pizza Ecco perché fa schifo la pizza Guarda cosa c'è dentro Ma no ma queste sono le spezie Preferisci il cardamomo o questo? Io preferirei il cardamomo Perché? Perché cacchio hai il cardamomo? Oh cardamomo a chi? Non ho calcolato Non ho calcolato Vai vai No No Adesso prendi la pizza e trasportati Andiamo in due Andiamo in due sulla pizza Anzi no Ho deciso di andare da solo No Ah Ah È pizza mia Pizza Ah no C'è un coso di parkour da fare Facciamolo Espi guarda che sono già in cima Cosa c'è là in fondo? Guarda Girati dietro là Quello che lei diceva Oh mio dio Oh mio dio La pizza al volo No Aia Venga venga Yes Oddio L'ho fatta Non se l'aspettava E ora Mezzi bacchiati verso sonno E' una mappour questa per caso Ah Che cacchio Oh mio Oh Ah no sei tu è vero Se mi scordi sei che quanto sia brutto Ma siamo tornati da partenza No Ecco cos'era quella mappa Era una pubblicità questo gioco Over Hyped Sellout Lens flare Dubstep War Zombies 4 HD Dell'Electronic Art Io invece ho appena preso la LST Oh Oddio ho preso il fungo allucinogeno e sto morendo Oddio Spippettiamo oggi tutti Sono morto Perché mi aspettassi Sono morto perché mi stavo drogando Espi non ci capisco No Spawni un po' anche per me Spawna 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 Oh mio dio perché vado a fuoco Perché vado a fuoco Perché hai preso il fungo allucinogeno No 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 acqua 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 Iscrivetevi al suo canale che è veramente E' veramente E' veramente Wow OX